Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questo fine settimana i controlli volti a verificare rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. In totale tra venerdì e domenica scorsi sono state controllate in tutta la provincia 1.011 persone e 148 attività commerciali, 36 le sanzioni complessive applicate non solo a dichiarati irriducibili negazionisti trovati in strada senza mascherina, ma anche a contrabandieri di sigarette e ad una sala giochi. Più in dettaglio, a Napoli, nel rione San Tommaso, ha sequestrato presso un ciclo privato 260 euro in contanti e 6 parecchi da gioco non collegati alla rete dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, denunciato il gestore del ciclo e proposto al prefetto la chiusura del locale per 5 giorni. Lo stesso reparto ha sequestrato nel quartiere Gianturco presso un esercizio commerciale gestito da cittadini di nazionalità cinese anche 7.800 tra scarpe ortopediche e antinfortunistiche prive del marchio CE. Il gruppo di fratta maggiore ha sequestrato 10 kg di sigarette di contrabbando, sanzionando un 32enne di fratta minore anche per violazione anti-covid, trovandosi in strada senza giustificato motivo. Anche la compagnia Casanuovo nel corso di una perquisizione ha sequestrato a Giuliano in Campania oltre 2 kg di sigarette di contrabbando importate dall'est Europa, marchi Merit e Winston contraffatti, denunciando un cittadino di origini nordafricane. La compagnia di Pozzuoli nel corso di diversi interventi ha sanzionato tra la stessa cittadina e quarto il titolare di un bar, un dipendente e un cliente senza mascherina, cinque soggetti sorpresi in strada senza dispositivi di protezione individuale, due all'interno di una pizzeria e di un negozio. La compagnia di Ottaviano ha sanzionato tra Palma Campania e Tersigno tre attività commerciali, una delle quali gestita da cittadini cinesi che non esponevano all'ingresso del locale il cartello che regola il numero massimo di persone ammesse e che dispone l'obbligo di utilizzo della mascherina, nonché un cittadino del Bangladesh che vendeva al pubblico prodotti di ortofrutta senza guanti e mascherina di protezione.